Siamo a Betralla, in provincia di Viterbo, sempre in piazza, se potete diffondete un po', condividete un po', siamo sempre in piazza, guardate, non molliamo mai, ti do adesso la cosa, aspetta che d***o, adesso arriverà, mi raccomando sempre così. Buonasera a tutti, buonasera e grazie, siamo anche in diretta tramite questi cellulari con i quali riusciamo anche ad arrivare a tante tante persone, poi vi dirò più tardi a quante persone appunto arriveremo. Grazie a tutti per essere venuti, stiamo dando il massimo, ci vedete che non ci stiamo fermando mai, c'è qualche scettico qui, perché mi piacerebbe rivolgermi, voi due siete scettici? Voi due, perché non scendete? Perché vagotete da sopra? Perché prima un signore lì si è affacciato, perché io poi li noto tutte queste cose, lui si è aperto la tendina, ha visto, era secondo me interessato, però dice il Movimento 5 Stelle, le persone gli serve un po' di tempo a buttare giù le barriere ideologiche, io sono di sinistra quindi devo votare il PD perché il PD è il partito del Berlinguer, il PD è il partito del Berlusconi, non è il partito del Berlinguer, oppure io sono di destra quindi devo votare il partito di destra, la rivoluzione liberale, questi si sono intascati in qualsiasi quattrino, lo Stato l'hanno utilizzato, l'hanno munto per i loro interessi, i loro giornali, i loro partiti, però se si tratta di mantenere l'acqua pubblica ti dicono no, lo Stato non deve intervenire, bisogna privatizzare l'acqua, questa è l'ipocrisia totale, io spero che sia chiaro che sono tutti contro il Movimento 5 Stelle ed è anche se permettete una medaglia al valore che questi cialtroni ci considerino tuttora dopo tre anni in Parlamento come il nemico pubblico numero uno, io ne vado molto fiero. Ora, lo vedete quel che succede a Roma, no? Che Berlusconi prima dice Bertolaso è il candidato, tutti i romani mi fermano e mi dicono che è Bertolaso e vogliono sindaco Bertolaso, ma è incredibile. Poi quando serve una mano al PD prende e va sull'altro, cioè è veramente un consociativismo estremo, io vi chiedo ma voi credete veramente che Alfano e Berlusconi abbiano litigato? Insomma, questo è il concetto, il centrosinistra non ha mai toccato le aziende di Berlusconi, non ha mai toccato il conflitto interessi, ha creato un reato di falso in bilancio più blando, più soft di quello di Berlusconi, in cambio Berlusconi favorisce al PD e al Senato i voti, prima gli ha dato Alfano, poi Alfano non bastava anche perché gliene arrestano diversi, insomma hanno dei problemi e quindi gli ha dato a Verdini, è vero, guardate loro hanno dei problemi alle volte numerici, ne stanno restando uno al giorno, è così. Io anche ringrazio l'arma e i carabinieri che ci state dando spesso delle grandi soddisfazioni, perché a Roma pulizia non l'ha fatta il PD, a Roma hanno fatto i carabinieri, pulizia e mafia capitale. Vi dicevo, poi non bastava Alfano, gli ha dato Verdini e gli garantiscono i voti, cioè questo è il paese, insomma è chiaro, no? Questo è il paese dove se non paghi il canone rischi da otto mesi a quattro anni di carcere, se ti chiami Verdini e vieni condannato per corruzione rischi di diventare, grazie a Renzi, padre della Costituzione e delle riforme. E' così, è d'accordo lei lassù, se no veniamo tutti su, occupiamo la palazzina, occupazione proletaria di questa palazzina centro storico, come? Agricoltura, ambiente, alimentazione. Perfetto, ora ne parliamo. Aiuto, lui! Poi se vuole venire pure a dacci la mano, eh... Siamo... beh, di questo poi Massimiliano Bernini è proprio capire dove sta, sono i nostri temi. Io vi dico, sono tre anni che stiamo in Parlamento, abbiamo subito attacchi di ogni tipo, letame mediatico di ogni tipo, ci descrivono in ogni modo, siamo oggi più forti di prima. Facciamo tutto attraverso la rete, scendiamo in piazza, questi sono i nostri straordinari mezzi, perché rifiutiamo tutto il rimborso elettorale che ci spetta, poi lo chiamano rimborso elettorale, ora ci arrivo alle truffe semantiche. Siamo più forti di prima, si sono tutti coalizzati contro di noi, perché questo è un dato di fatto, andiamo avanti, stiamo dalla parte giusta. C'è un mucchio di gente anche qui, che è del Movimento 5 Stelle, ma ancora non lo sa, persone al di là della strada, che ancora non si avvicinano, non lo sanno, ma stiamo lavorando per loro, voi non lo sapete, state lì a chiacchiera, ma stiamo lavorando per voi. Le truffe semantiche, occhio, questo Paese, le ingiustizie, stanno continuando ad andare avanti con le truffe semantiche. Il finanziamento pubblico ai partiti, che un referendum del popolo italiano lo abolì, l'hanno trasformato in rimborsi elettorali. E occhio che ora la disinformazione ci sarà sul referendum sulle riforme costituzionali, già la TV fa i sondaggi. Ma voi siete d'accordo all'abolizione del Senato? Ovvio, su tantissimi italiani, ma il Senato non verrà abolito, verrà trasformato in un dopolavoro dove entreranno i consiglieri regionali, non eletti da nessuno, e sappiate che i consiglieri regionali, i consigli regionali sono l'ente pubblico più corrupto d'Italia. Mi pare che 16 o 18 regioni su 20 hanno guai con la giustizia peculata, rimborsopoli, corruzione, confusione, abuso d'ufficio. Signora venga con noi che stiamo, porti pure il cane. E quindi daranno l'opportunità di finire in Senato a queste persone non elette come senatori, eppure avranno l'immunità parlamentare. Così magari i peggiori delinquenti che ci sono all'interno dei consiglieri regionali sceglieranno soprattutto loro, fidatevi. Più in certi partiti, più è guai con la giustizia, più fai carriera politica. Cioè le condanne sono tipo le mettono nel curriculum e avranno l'immunità parlamentare. Di questo si tratta. Quando vi diranno, ma il processo legislativo con le due Camere, con la Camera e il Senato, il bicameralismo perfetto è lento, ricordatevi che è una menzogna. Se c'è da approvare il reddito di cittadinanza, ti dicono, ah, sono lunghi i processi, bisogna trovare i soldi, li abbiamo trovati, oppure l'Europa vuole, non vuole. Se si tratta di approvare la legge Fornero, ci hanno messo per approvarla 19 giorni, per il Lodo Alfano 20 giorni, per la legge Boccadutri con la quale si sono intascati milioni di euro di soldi nostri, ci hanno messo 20 giorni tra Camera e Senato. Allora quando gli fa comodo prendere i soldi nostri, il bicameralismo perfetto va benissimo, il processo legislativo è super rapido. Se si tratta di abolire le pensioni d'ore, alzare le pensioni minime perché c'è gente che campa con 440 euro al mese, è no, è colpa del bicameralismo perfetto perché il leader legislativo è lungo. Sono falsità e dobbiamo capire perché arriverà un momento importante a ottobre, un momento, un referendum davvero importante dove non ci sarà il quorum. E toccherà iniziare a parlarne con la rete, fare messaggi. Ognuno di noi può diventare una persona che fa informazione, che convince qualche amico. Io penso che tanti di voi siete venuti in piazza oggi convincendo qualche amico di venire. Gli scettici venite, rendetevi conto, ci stanno quattro carabinieri, ripeto, che ringrazio, ma è una piazza normale. Se fosse venuta qui la Boschi o Salvini c'era l'esercito, avevano bloccato il centro storico. Guardate! Io dico, abbiamo tutti gli elementi per mandare questi cialtroni a casa con il voto. Tutti gli elementi. Dobbiamo acquisire un po' di memoria storica perché il problema è che se ci dimentichiamo le schifezze, e se poi uno cambia i volti oppure utilizzano la truffa semantica, uno si dimentica. Si dimentica che mafia capitale c'è stato dieci mesi fa. Si dimentica che Giorgia Meloni, che oggi va in tv a dire che i pensionati vanno difesi, ha votato la legge Fornero, è stata ministro con Berlusconi e ha sostenuto lei alle manno più di tutti. Si dimentica che il Partito Democratico è quello dell'abolizione dell'articolo 18, è quello che invita i cittadini a non votare. Il presidente merito napolitano, il massimo responsabile del disastro dell'Italia, è lui e soltanto lui. Il massimo responsabile. Uno che è entrato in Parlamento napolitano nel 1953, lo ricordo, l'anno della morte di Stalin. Sono 63 anni che paghiamo lo stipendio a quel personaggio e che non ha mai rispettato gli interessi dei cittadini. Io penso che dobbiamo mantenere la memoria, non farci intortare dai mezzi di comunicazione, che è ovvio che ce l'abbiamo con noi, è ovvio, ma è un orgoglio che ce l'abbiamo con noi. Coloro che hanno sempre difeso il consociativismo, il potere costituito, che ce l'abbiamo con noi, per me va bene, significa che la strada è quella giusta. Io quando mi attaccano certi giornalisti che hanno sempre difeso qualsiasi potentato locale, significa che sto facendo bene il mio dovere e cammino a testa alta. Però è normale che ci faccia la guerra, perché quando staremo al governo di questo paese non ci sarà un euro pubblico che andrà ai giornali. Se riusciranno a campare vendendo i giornali, bene, altrimenti cambieranno mestiere. Gli euro li daremo alla piccola e medie impresa, perché noi abbiamo tre manovre economiche. Io lo dico, tre manovre economiche. La prima, il reddito di cittadinanza, che voglio spiegare bene, qualcuno dice è assistenzialismo, falsità. I soldi ci sono, è una manovra economica che costa circa 17 miliardi di euro. Sappiate che solo il Comune di Roma ha 14-15 miliardi di euro di debiti. Non si sa come l'hanno fatti, hanno comprato derivati. Occhio che abbiamo un'altra bomba all'orologeria, sono i derivati. I derivati sono dei titoli, praticamente delle scommesse sulle scommesse, che hanno comprati i Comuni, a nostra insaputa. Magari anche qua avranno comprato, io non lo so, dei derivati. Comprano i derivati, cioè sono delle scommesse della finanza, che comprano le amministrazioni con i nostri soldi, anche lo Stato. Poi regolarmente le banche vincono queste scommesse e ci devono mettere altri quattrini, i cittadini italiani, che non sapevano nulla dell'acquisto di questi titoli. Ma vi pare normale che un Paese o un Comune debba comprare dei titoli, faccia delle scommesse in borsa con i soldi delle tasse dei cittadini, anziché riparare gli asili, sistemare le strade? Ma vi rendete conto? Poi scopri che molti ministri dell'economia degli ultimi anni sono super legati al sistema bancario. Vengono da quel mondo, magari vengono dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, vengono da quel mondo lì, quindi hanno loro comprato i titoli che fanno comodo alle banche, poi se perdono, non è colpa nostra, ma tanto ci rimettono i soldi cittadini italiani. Guardate che è questo il meccanismo. Da quando sto in Parlamento sei provvedimenti a favore delle banche, sei, e nessun provvedimento a favore dei cittadini di Taranto, ripeto, dei pensionati minimi. Il reddito di cittadinanza consiste in un, diciamo, reddito per tutti i cittadini di 780 euro al mese, ma di una riforma di centri per l'impiego attraverso i quali questi centri per l'impiego propongono un lavoro, perché se dai un reddito ad una persona che guadagna 400 euro, glielo fai arrivare a 780, quei soldi li spende, li spende sotto casa, c'era una volta in pizzeria, dal pizzicarolo sotto casa, all'edicolante, quindi si rimette in circolo l'economia, perché sono soldi veri, spesi nel territorio, non soldi che si portano in Svizzera questi cialtroni. Quindi una volta che si rimette in moto l'economia, si creano posti di lavoro. I centri per l'impiego propongono questi posti di lavoro a coloro che prendono il reddito, se con lo scostoro rinunciano a tre posti di lavoro, perdono il sussidio. Sappiate che abbiamo anche creato un reato ad hoc, un reato penale per coloro che mentono per ricevere un reddito quando magari stanno facendo un lavoro in nero. Cioè è tutto organizzato. Seconda manovra economica, un piano energetico nazionale. L'abbiamo scritto, lo stiamo depositando, perché l'Italia può da qui al 2050 uscire dal fossile e le rinnovabili creano posti di lavoro. L'Italia può diventare la rabbia saudita del solare, la rabbia saudita delle rinnovabili. Da qui al 2020 si può uscire dal carbone, si può fare. Basta applicare la carbon tax, ma le tasse vanno applicate a coloro che inquinano, così loro capiranno che investire sulle rinnovabili sarà redditizio. La terza manovra economica è il sostegno alla piccola e media impresa. La piccola e media impresa ha un bisogno enorme di credito. In Italia non c'è una banca pubblica di investimenti, infatti il Movimento 5 Stelle vuole una banca pubblica, una banca che sia dello Stato italiano e che possa pure stampare moneta, una banca pubblica che possa fare investimenti. In attesa di andare al governo sarà poca roba, ma lo facciamo noi. Siamo noi che stiamo creando il microcredito. Penso che Massimiliano Bernini, dov'è? Sia il parlamentare che in Italia ha restituto più soldi di tutti del Movimento 5 Stelle. Anche io. Io personalmente 168 mila euro restituite. Sono soldi che per legge mi spettano. Qualcuno diceva che sono vostri gesti simbolici, simbolici un par di palle. Perché 168 mila euro, non so voi, a me mi servivano. Mi servivano. Ma l'aviamo detto in campagna elettorale che avremmo fatto così. Oggi ci sono oltre 1.500 imprese italiane sostenute dal microcredito proveniente dagli stipendi tagliati e parlamentari del Movimento 5 Stelle. E questo lo faremo. E questa sarà la legge dello Stato una volta al governo. Nessuno potrà guadagnare di più, nessun politico, più di 5.000 euro lordi, non nesti, lordi. Poi dovrà rendicontare tutte le spese e quel che non spende dovrà restituire ai cittadini tramite un sistema di microcredito di finanziamento che sta producendo posti di lavoro. E questo verrà fatto a tutte le piccole e medie imprese che sono il tessuto economico di questo paese. Cioè io penso che saremo... Lei ha aperto la finestra e... Oh, la ringrazio. Perché io mi sono impegnato soprattutto su... di lei. Quarta donna che io parlo a lei. Venga con noi, scendete. Pure là un'altra signora, meravigliosa. Perché ci sono gli scettici, quelli che fanno un passettino. Però ancora votano per partito preso. In questo paese si vota per partito preso, eh? Però no. Però lei... Lui, il signore Fuma, è del Movimento 5 Stelle, ma ancora non lo sa. Io ne sono... Salute a Campagnano. Il Movimento è questo. Ripeto, sono tre anni che stiamo in Parlamento. Abbiamo subito una guerra mediatica di ogni tipo e siamo più forti di prima. Ce la giochiamo a Roma, ce la giochiamo a Torino, ce la giochiamo in altre città importanti. Se Dio Guardi riuscissimo a vincere il referendum, che non è un referendum contro Renzi... Io Renzi neanche lo nomino. Questi personaggi sono marionetti di poteri più forti. Io li vedo in faccia. Ma che credete veramente che... Renzi è il Presidente del Consiglio delle Banche. È un Presidente di un Consiglio... Non fa parte di un Consiglio di amministrazione, dove l'amministratore delegato è un altro che noi non conosciamo. Gli affida un compito. Difendi le trivellazioni, difendi la grande finanza. Altrimenti non ci metto nulla a sostituirti e a mettere un altro al posto tuo. E lui difende il potere finanziario e le lobby del petrolio con tutte le sue forze. Ma io lo vedo... Guardate, Giovanni Falcone diceva... Seguite i soldi e troverete la mafia. È tutto lì in questione. Voi perché vi fidate? Non vi fidate di me. Non vi fidate. Io vi posso raccontare un sacco di bugie. Verificate. Però sappiate che nel momento in cui il Movimento 5 Stelle si autofinanzia... non ha padroni. Perché a noi nessun lobbista ci ha dato i soldi e ci ha pagato la campagna di troia. Qua come vi finanziate? Fate delle scene o qualcosa. Non sostenete. Nel momento in cui ogni cittadino di vetralla tirasse fuori due euro per finanziare il Movimento 5 Stelle, noi avremo un unico lobbista, il popolo di vetralla, se ci ragionare. Non c'è un petroliere che ci ha dato i soldi. Non c'è un banchiere che ci ha dato i quattrini. Non c'è Riva dell'ILVA che è morto, che finanziò nel 2006 contemporaneamente Berlusconi e Bersani. Contemporaneamente. Come dire, chi vince vince l'essenziale che quando poi sale, poi si ricorda dei soldi che gli ho dato io lecitamente e mi fa un decreto salva ILVA. Infatti sono stati fatti sette decreti salva ILVA e nessun decreto salva cittadini di Taranto perché in questa terra si continua a morire di tumore dovunque. In qualsiasi famiglia c'è un dramma legato al cancro, al tumore, lo sappiamo, anche nella mia. Eppure il Parlamento della Repubblica non si occupa di queste robe, no? Però si occupa del finanziamento pubblico, di tascarsi i soldi, di fare le leggi per la memoria delle vittime. Quanto sono ipocriti i minuti di raccoglimento boldriniani che il Parlamento della Repubblica fa quotidianamente. Non risolvono i problemi però si lavano la coscienza con i minuti di raccoglimento questi ipocriti. Questo è il movimento. Io non vi chiedo il voto, non ve lo chiedo. Vi chiedo di darci una mano, di metterci alla prova, di leggere il programma qua di Petralla. Valutate, valutate il candidato sindaco che io ho conosciuto oggi. Dov'è? L'ho conosciuto... Ah, mi sta facendo... Quanti sono collegati in diretta? Adesso 6.000, prima 8.000. Ecco, 6.000 persone. Ci sono 6.000 persone collegate in diretta. Dovevi dire 60.000. Ci sono 600.000 persone in questo momento. Per me, il signore che ha preso a spenta tv e si è affacciato alla finestra, è la più grande vittoria che ci possa essere. Vi dicevo sulle truffe semantiche, guardate che è tutta lì, no? I telegiornali, il Tg1 oggi, il Tg1, il direttore Mario Orfeo, uomo molto vicino a Caltagirone, più Renziano di Renzi. Alle volte a me Renzi lo chiama e gli dice, ti prego, un po' meno Renziano, perché sono oltre. L'altro giorno, con lo scandalo di Gomorra del PD, li hanno inquisito per Camorra, il presidente del Partito Democratico in Campania. Hanno montato nel Tg1 un servizio dove partiva dicendo il PD a questi qua e qua con la Camorra. Magari la parola Camorra ha detto a Bassissia con la Camorra. No, perché fanno così. Stessi guai per Virginia Raggi che non aveva detto che era presidente di un'associazione forse legata dalle mani. Ma stessi guai di che? Vedete come cercano di farci sembrare uguali agli altri, ti mettono lì insieme, uguali agli altri. Cercano sempre di catalogarci. Un giorno siamo di destra, un giorno siamo di sinistra. Se vogliamo il reddito di cittadinanza siamo di sinistra. Se vogliamo regolamentare l'immigrazione clandestina, ovvio, siamo di destra. Se vogliamo sostenere la piccola e meno impresa siamo di sinistra. Se vogliamo dire stop alle sanzioni alla Russia siamo di destra. Se vogliamo abolire il finanziamento pubblico ai partiti siamo di destra. Se vogliamo l'acqua pubblica, la scuola pubblica, i trasporti pubblici siamo di sinistra. Solo quando ci tagliamo gli stipendi non ci dicono se siamo di destra o di sinistra perché abbiamo fatto solo noi. I rimborsi e il finanziamento pubblico ai partiti lo chiamano rimborso elettorale. Perché tu pensi rimborso è una parola migliore, no? Del finanziamento e rimborso avranno speso qualcosa. Ma l'avete visto i conti del PD? I conti di Forza Italia? Da quando è stato fintamente abolito il finanziamento pubblico ai partiti ad oggi? I soldi nostri nei partiti che sono finiti ammontano a 2,4 miliardi di euro. Qualcuno sa come li hanno spesi? No, assolutamente no. Però hanno sedi, manifesti, campagne pubblicitarie. Guardate Roma, dovunque c'è questo manifesto della Meloni che poi tutti ritoccati con Photoshop non mettono il simbolo più perché si vergognano a mettere il loro simbolo. Le guerre di invasione, la missione in Afghanistan ci è costata fino ad oggi 5 miliardi di euro più delle vittime civili e vittime dei nostri militari, 5 miliardi di euro. Quella guerra la chiamano missione di pace. I tagli alla sanità li chiamano aggiustamenti strutturali. Perché tu non lo capisci? Diciamo aggiustamento strutturale, hanno aggiustato qualcosa? No, hanno tagliato dei posti letto alla sanità e tutti noi conosciamo i problemi, il dramma della sanità che ci vuole un anno e mezzo per fatti un attack. Lo sappiamo, però tagliano lì, distruggono tutto ciò che è pubblico e poi danno la colpa non ai corrotti che l'hanno distrutto ma al pubblico, così poi privatizzano. E state tranquilli che coloro che compreranno a due lire, magari gli asset, i pochi che restano pubblici quando li vogliono mettere appunto sul mercato e privatizzarli, saranno gli stessi legati a coloro che li hanno affossati. Perché il trucco è questo, distruggere tutto quel che è pubblico, dire che il pubblico non funziona e comprarselo a due lire. Tanto sono soldi nostri e ci abitano lentamente, lentamente. La conoscete la storiella della rana dentro la pentola d'acqua? Io questa ve la devo, perché è questa, l'Italia è questa. Immaginate una pentola d'acqua che bolle, a un certo punto inizia, è caldissima. Se prendessimo una rana e ce la sbattessimo dentro, la rana subito si accorge che l'acqua è bollente e morirebbe da un colpo di reni e si salva. E ci saremmo salvati pure noi. Invece questi che fanno? Noi siamo la rana. Ci mettono nell'acqua fredda, poi mettono l'acqua sul fuoco e lentamente, lentamente aumenta la temperatura. Alla fine finiamo totalmente morti, bolliti, senza rendercene conto. Guardate che stanno facendo questo con l'articolo 18, con la privatizzazione selvaggia, con le trivellazioni, con questa riforma oscena, non vi fidate, la riforma renziana, ma se una riforma costituzionale fa Renzi, Boschi, Berlusconi e Berdini, ma può essere buona. Non verrà abolito il Senato, non ci credete, non verrà abolito. Fanno questo, le truffe semantiche. Quando poi non basta la truffa semantica, utilizzano dei termini incomprensibili. Beilin. Avremmo sentito al telegiornale, no? Approvato oggi il Beilin. Uno sta lì a mangiare gli spaghetti, io lo dico sempre. Non si preoccupa. Immaginate se il giornalista del Tg1, pagato dai soldi dei cittadini, dicesse oggi è approvato, col solo voto contrario del Movimento 5 Stelle, la norma che serve a salvare le banche con i soldi tuoi che stai mangiando gli spaghetti adesso. Forse ti preoccuperesti, o no? Diretti, ferma un po', alza la televisione, fammi, capire che questi salvano le banche con i nostri soldi. È così. Perché se i cittadini di Taranto, se la gente che muore nella terra dei fuochi, i pescatori siciliani, gli agricoltori pugliesi, gli imprenditori strozzati dalle tasse, da questo Stato, canaglia che si ricorda che siamo cittadini solo quando ci chiede i soldi. Se tutti costoro fossero banche, li avrebbero già salvati. Se fossero istituti finanziari, li avrebbero già salvati. Se fossero i lobbisti del petrolio che finanziano il Presidente del Consiglio in qualche modo, perché io non posso credere che il Presidente del Consiglio Renzi non abbia dei finanziamenti da questo settore che sta aiutando in maniera vergognosa contro gli interessi nazionali. Perché è sempre lì i soldi. Noi vogliamo capire se ha incontrato Buzzi e Carminati quanti soldi gli hanno dato, perché sappiamo che Buzzi di Mafia Capitale è stato un commensale di Renzi. Io glielo ho detto in faccia al Presidente del Consiglio, ma perché non mi ha querelato? Gli ho detto, Buzzi, il suo commensale. Buzzi, quello di Mafia Capitale, ce lo dimentichiamo, ma sta in carcere per Mafia Capitale. Questo partecipava alle Cenerenziane e sborsava 15.000 euro. Quanti altri soldi gli ha dato? E le fondazioni del Presidente del Consiglio? Da chi vengono finanziate? Perché capiamo tutto da lì, no? Se noi conosciamo i finanziatori di questi partiti, sapremo che politica faranno. Dimmi chi ti finanzi e ti dirò chi sei. È questo. È tutto lì. Per quello vedete nel Parlamento, noi vediamo nel Parlamento davanti alla Commissione Finanze, quando si deve approvare la legge finanziaria, orde di lobbisti che possono entrare liberamente. Pure L'Otito entra liberamente. Io non capisco per quale motivo L'Otito debba entrare alla Camera dei Potenti. L'ho capito, sì. No, sti personaggi qua entrano, però i cittadini no, e stanno lì fuori dalle commissioni a fare pressioni, no? Facciamo entrare i cassi integrati in Parlamento, la lobby degli esodati, la lobby degli studenti che escono e non hanno lavoro, i pensionati minimi. Giusto? L'ho convinta? Relativamente. Se spegne... Stasera Vespa fa tutto il lavoro. Uno fa il lavoro, no? E poi accende la... La TV va aspetta, va accesa solo quando ci stiamo noi. E basta. Vero. Vero. Ma tanti me lo dicono, io lo leggo su internet. Qualcuno che su Facebook si scrive, ha finito l'intervento, spegni subito! È vero, eh? E' vero, eh? E' vero, eh? E' vero, Alessia. Io dico che siamo forti, che ce la possiamo fare, che con la rete arriviamo a tante persone, che non molleremo mai, fino a che questi traditori dell'Italia non se ne andranno a casa. Guardate, io a questi personaggi che ci hanno distrutto la vita, ai Gasparri, alla russa, a Dilla, a Brunetta, che c'è, poi mi sembra tutti, non lo so, chi c'è, Fioroni, uno dei territori voli. Noi, gli daremo anche il reddito di cittadinanza, 780 euro al mese, gli li daremo. Però, gli presenteremo tre lavori veri e se li rifiuteranno, perderanno il sussidio, oppure loro. Questo gli daremo il reddito, li manderemo a casa e gli daremo il reddito di cittadinanza. Il movimento è questo, siamo più forti che mai. Dov'è la carta? Vieni qua sopra. Dammi pure il cellulare mio, questo qua c'è tutti i segreti di Napolitano qua dentro raccolti. Lei è la candidata a sindaco del movimento. Questa è Detralla, sono i cittadini di Detralla. Ora ci sono 7500 persone collegate, io vi ringrazio. Grazie. Se camminiamo a testa alta, senza scorta, dopo tre anni e le persone ci danno delle facche sulle spalle, ci sono andate avanti. Questo è l'orgoglio più grande che ci possa essere. Di più di una corruzione, di una tangente, non ce ne frega niente. Io vi ringrazio. Viva il Movimento 5 Stelle, proseguiamo su questa strada e lei lassù l'ha convinta? L'abbiamo convinta? Lei? Queste sono le più belle soddisfazioni. Chi si affaccia dalla finestra e magari la prossima volta sarà in piazza con noi perché per le persone pervenne in questo movimento c'è sempre spazio. Grazie a tutti e viva il Movimento 5 Stelle. Guardate che entusiasmo. Domani buona festa dei lavoratori a tutti per chi il lavoro ce l'ha, per gli altri mandateci al governo. Ciao.